Una Juve è cambiata di molto con quattro undicesimi titolari nuovi, soprattutto in attacco con l'Audrup, il sottoscritto Mauro e Manfredonia. Quindi veramente un cambio notevole di quella Juventus che però è partita subito di gran carriera, otto vittorie consecutive a inizio stagione. Eravamo veramente forti, abbiamo preso un abbrivio quadrati dietro, davanti efficaci perché l'Audrup aveva velocità, a dribbling era nell'uno contro uno imprendibile e io mi sono subito sintonizzato con Michel Platini che aveva, oltre ad essere un grande bomber, aveva la capacità di trovarti anche a 40 metri con palloni perfetti sui piedi e pronti a essere calciati dentro. Quindi un Juventus che è partita subito di gran carriera, dopo otto partite consecutive vinte, abbiamo perso a Napoli contro un signore che si chiama Diego Maradona, di fatto è lui che ci ha fatto perdere una punizione strepitosa e da lì in poi abbiamo un po' gestito, secondo me il campionato, eravamo quasi in autunno inoltrato per arrivare poi alla partita di Tokyo contro l'Argentino Juniors in buona forma. Preparata molto bene, abbiamo visionato varie cassette che ci erano venute date, che ci erano date dagli osservatori bianconeri, quindi abbiamo analizzato molto l'Argentino Juniors che non ci sembrava per la verità una squadra molto forte. Siamo partiti convinti di vincere pensando che non fosse una squadra forte, invece poi si è rivelato un osso duro, un avversario con grandi capacità, soprattutto in velocità e abbiamo incontrato anche un giocatore che ha fatto la partita della vita, che è Borghi, forse non ha più giocato una partita di alto livello come in quel caso. Sì, una squadra che si sapeva chiudere bene, ma non credevamo che avesse quella capacità di ribaltare l'azione così in maniera veloce, con Hereros e Castro, due ali velocissime e di fatti è così che loro ci hanno messo in scacco. Stavano nella propria metà campo con un atteggiamento molto prudente, coprendo bene gli spazi, poi giocando con l'esperienza, l'astuzia dei giocatori argentini, che è proverbiale, e quindi con Mezzucci anche che conosciamo, non ci volevano far arrivare nella loro area di rigore per poi intercettare Pala e ripartire velocemente con la tecnica di Borghi e la velocità di Castro e di Hereros. L'atmosfera era abbastanza finta, abbastanza particolare, il coinvolgimento era un coinvolgimento dettato un po' dai canoni, non certo da una passione travolgente come è nel nostro campionato, come è nella tifoseria italiana. Quindi queste trombette di fondo, questo stadio esaurito, perché c'erano tantissime persone a vederci, il terreno di gioco era veramente messo male, non si faceva fatica a giocare la palla, l'erba era abbastanza ingiallita, il terreno era molto pesante, credo avesse anche nevicato nei giorni precedenti, quindi veramente il terreno di gioco ha un po' penalizzato quello che era il gioco per la terra veloce, ma forse per la chimica che a volte capita, ne è uscita una partita strepitosa, unica nel suo genere. Noi eravamo convinti quell'anno di vincere tutto, perché ci siamo resi conto che eravamo forti, avevamo una difesa compatta, esperta, Cabrini, Brio, Scirea, e poi avevamo capito che quell'anno in attacco la Verve di Laudrup, che anche da solo poteva mettere in crisi le difese avversarie, era di grande aiuto. Platini giocava forse meno sul fronte dell'attacco, giocava qualche metro indietro, dispensava sempre assist e passaggi intelligenti ai compagni, fra i compagni c'era anch'io e sfruttavo le sue capacità balistiche facendo gol. Ci siamo resi conto subito dalle prime battute che avevamo di fronte una squadra quadrata, compatta, nella fase difensiva, anche sotto il profilo tattico, ben disposta, non ci concedeva spazi, non ci dava la possibilità di arrivare facilmente a ridosso della loro area di rigore e con l'andare dei minuti ci stavamo anche preoccupando. Devo dire che poi quando si è infortunato Gaetano Scirea, che era il mio giocatore preferito, bianconero, mio caro amico, la persona con la quale andavo maggiormente d'accordo e che era il nostro baluardo difensivo perché sapeva interrompere gli attacchi avversari ma sapeva anche poi far ripartire l'azione velocemente perché Gaetano era bravissimo quando usciva con la palla, era un centrocampista aggiunto. Il suo infortunio, devo dire, mi aveva messo un po' di malumore ed anche mi ero preoccupato molto quasi convincendomi che la partita era nata sotto una brutta stella, eravamo andati anche in svantaggio e che lì sarebbe stata difficile da recuperare senza Gaetano. Il terreno di gioco mi ha un po' condizionato, Michel ha cambiato gioco, un calcio lungo di 35 metri, io ho stoppato palla molto bene, era in posizione regolare, mi stavo avvicinando al portiere avversario, il pallone rimbalzava in uno strano modo, aspettavo un momento propizio per battere a rete, ho sentito da dietro tirare proprio per la maglia e il mio marcatore lì era in ritardo, ha cercato anche di colpirmi un po' sui piedi. Io quando ho sentito questo sono andato a terra, il calcio di rigore mi sembra fosse abbastanza limpido e solare, sicuro che Michel l'avrebbe messa dentro e l'ha messa dentro. Abbiamo recuperato appunto con il rigore di Platini e lì ci eravamo rinforzati sotto il profilo del morale, la partita era stata rimessa sui binari giusti, potevamo riprendere il discorso fiduciosi, mentre poi quel gol ci aveva non dico tagliato il legame ma ci ha dato dei problemi notevoli e solo è grazie secondo me a una prodezza di Laudrup che è stato un giocatore strepitoso, unico anche lui. Forse in quella fase non era ancora maturo come poi lo ha dimostrato a Real Madrid e al Barcellona, però era capace di giocate in virtù delle sue qualità che erano quelle di avere delle leve corte, della rapidità, della tecnica. Lì ha dribbato il portiere in un campo fangosissimo, gibboso, dove era veramente difficile controllare il pallone, era andato forse anche troppo in laterale quasi sul fondo e non ho ben capito poi che tipo di effetto si è riuscito a dare la palla. Il fatto sta che quando ho visto il pallone dentro lì esplosa la gioia e da lì secondo me ci siamo veramente convinti di solito chi rimonta, chi è in rimonta e va ai rigori vince. Lì poi quando poi abbiamo pareggiato la fiducia è tornata. Il gol di Platini è stato un sunto di eleganza, di tecnica, di armonia perché ha fatto tutto con una naturalezza unica. Quando ha fatto gol è esploso anche lui di gioia come non sempre faceva perché lui era abituato a fare tantissime reti e non sempre aveva una manifestazione di gioia, un entusiasmo, una corsa proprio che lo ha portato poi a rendersi conto del gol annullato. Io ero in posizione irregolare per i metri di giudizio dell'epoca. Secondo le attuali regole il gol sarebbe stato regolare perché io non ero influente né sul tiro di Platini, non ero sulla linea della palla, non ero a ridosso del portiere, quindi ero in una zona decentrata e quindi il gol adesso sarebbe stato valido. Beh me l'ha fatto pesare, me l'ha fatto pesare tante volte. Un gol così che non entra negli annali, soprattutto in una partita epica per la Juventus perché era una coppa alla quale tutto il clan, tutto il popolo bianconero teneva particolarmente. Personalmente dopo la rete di Laudorop non ho più sentito la fatica, ero convinto di vincere la gara, di portarla a casa. Eravamo credo tutti sintonizzati secondo quel profilo ma non volevamo più rischiare nulla e abbiamo tenuto le posizioni abbastanza in maniera decisa perché eravamo stati scottati due volte, due reti su contrattacchi veloci e non volevamo più rischiare nulla, al limite andare ai rigori ma ai rigori avevamo dei tiratori di primo ordine, soprattutto una convinzione che ci ha portato poi a vincere la Coppa. Io ero convintissimo, ero convintissimo dei miei mezzi, io non sono mai stato un grande rigorista, nella mia vita credo di aver calciato nove o forse dieci rigori, non di più e quindi quello però ero convinto di farlo, ero tranquillo. Quando un giocatore è tranquillo il rigore lo mette dentro, è un discorso proprio di freddezza, di emotività. Io sono riuscito a tenerla a freno in quel caso, ero convinto di farlo e anche i miei compagni ci eravamo un po' sorpresi dall'errore di Laudorop perché Laudorop aveva fatto una rete strepitosa, ci aveva rimesso in gara e quindi pensavamo che fosse tranquillo, invece no, lui si è fatto proprio condizionare e probabilmente la tensione in certi momenti fa questi effetti. Nel momento del gol di Pladini non c'è spazio a pensieri, c'è spazio solo alla felicità, al unirsi con gli altri, con i compagni, nell'abbraccio, nella festa, nella gioia. Sono momenti indimenticabili quelli perché c'è una comunione da parte di tutti, si è tutti insieme, si raggiunge un'intensità proprio del rapporto amichevole che non si raggiunge in altri momenti e quindi resta unica, non è che ci siano pensieri particolari, lì, almeno per quanto mi riguarda, vivi la gioia, la felicità allo Stato puro. Io sono molto grato a Trapattoni che mi ha voluto la Juventus, che mi ha dato la convinzione nei miei mezzi, un grande psicologo, con parole scarne, con parole asciutte, però secondo me lui sapeva e sa trattare i giocatori, sa trovare la chiave per ognuno e in quello secondo me è un saggio, era un saggio anche quando ha iniziato ad allenare a 35 anni, la Juventus ha fatto bene in persona di Giampiero Boniperti a sceglierlo perché aveva capito che questo aveva le stigmate del grande comunicatore e del grande condottiero. Un allenatore unico, anche sotto il profilo tattico e lo dimostra il fatto che dopo tantissimi anni è ancora in sella, è ancora lì ad allenare una nazionale di grande tradizione come l'Irlanda. Gli elementi mitici sono la composizione di alcuni giocatori che sono rimasti nella storia della Juventus e per i gol che hanno fatto, per la qualità, per la classe come Platini e poi anche per giocatori epici che hanno avuto una fine brutta, disgraziata, infelice, una situazione veramente brutta che è quella che è capitata a Gaetano Scirea che resta il capitano simbolo, secondo me, della Juventus di tutti i tempi perché ha vinto tutto, lo ha fatto con eleganza, con discrezione, con educazione che dà insegnamento a tanti bambini che si approcciano al calcio ma anche Cabrini, anche Brio, Tacconi, insomma io penso che lì c'è una parte della Juventus che ha vinto tutto, alcuni che non hanno vinto tutto come sottoscritto che però erano presenti al primo anno in bianconero che hanno dato tutto però e che era la vittoria dopo varie coppe, tante sofferenze tanti campionati vinti, arrivare in cima al mondo è stata una soddisfazione unica.